Generali sempre al tuo fianco. Area Clienti My Generali. My Generali è lo spazio dedicato ai clienti di Generali Italia. Voglio registrarmi all'area Clienti My Generali. Cosa devo fare? Registrarsi all'area Clienti My Generali è molto semplice. Puoi farlo dal sito oppure scaricando l'app My Generali. Inserisci l'indirizzo e-mail o il numero di cellulare corrispondenti a quelli comunicati in agenzia da utilizzare come nome utente. Ricorda, è importante che questi recapiti non siano già utilizzati da un altro account My Generali. Crea una password della lunghezza compresa tra gli 8 e i 16 caratteri e con una lettera maiuscola, una minuscola ed un numero. A questo punto riceverai a recapito da te scelto un codice di verifica e un link. Scegli se inserire il codice di verifica nell'apposita schermata oppure confermare la tua registrazione direttamente dal link. Se il codice non dovesse arrivarti, ricorda di controllare nella cartella spam della tua e-mail. Ti ricordiamo che il tuo agente è sempre disponibile per ogni esigenza. Generali Italia. Partner di vita.